In edicola il nuovo numero di Lazio Stai, 1900 Official Magazine. In primo piano, l'intervista esclusiva al tecnico della primavera, Simone Inzaghi. All'interno, le foto più belle, delle gare della stagione, la gradita visita di due tifosi tailandesi, un regalo speciale, il diario del torneo di viareggio, giovani aquile, lo zoom su tutto il settore giovanile bianco-celeste, un'ampia parte storica con cimeli, aneddoti, maglie e tinte laziali, lo zoom sui tifosi in Italia e all'estero. Lazio Stai, 1900 Official Magazine, è distribuita a Roma e nel Lazio in regalo, il poster con la foto ufficiale della prima squadra.